Oggi parliamo del gruppo Carmeli, un gruppo che opera sul mercato da più di 40 anni e che dal 1976 non ha mai smesso di crescere fino a diventare una delle aziende più autorevoli, efficienti e riconosciute del mondo automotive in Italia. Cinque sedi nelle province di Brescia e Bergamo, 200 collaboratori qualificati, 13.000 auto vendute, 2.000 auto di tutti i marchi in pronta consegna, concessionaria e service ufficiale dei marchi Renault, Dacia, Nissan, Mercedes e Smart. Per gli appassionati dei motori, rivenditore ufficiale dei marchi sportivi Renault Sport e Nissan Nismo. Veicoli a chilometri zero o con meno di 12 mesi. Usato, garantito e sicuro. Veicoli commerciali dalle grandi prestazioni e un'assistenza post vendita senza uguali. E in più tantissime maxi occasioni giornaliere da non lasciarsi scappare. Ogni cliente è coccolato dall'inizio alla fine del servizio. Un valore con cui il gruppo Carmeli si è meritato un grande attestato di stima certificato dal giudizio positivo di migliaia di clienti soddisfatti. Best Digital Automotive Reputation secondo Google My Business, Facebook e AutoScout24. Sempre in linea con i nuovi trend del mercato, dal noneggio alle auto elettriche. E se volete personalizzare il vostro nuovo autoveicolo, qui trovate quello che fa per voi grazie ad una serie di servizi dedicati. Gruppo Carmeli vi attende nelle sedi di Brescia, Coccaglio e Bergamo per vivere la vostra migliore esperienza di acquisto della vostra vita. Una promessa che Paolo Carmeli vi invita a toccare con mano. Gruppo Carmeli vuol dire soddisfazione garantita. Se vuoi un veicolo per fare strada, parti da qui. Gruppo Carmeli via Perchiari 17 Coccaglio Brescia. Gruppo Carmeli Nissan via Mattei 2 Coccaglio Brescia. Gruppo Carmeli via Diaz 22 San Zeno Brescia. Autospazio Gruppo Carmeli Renault e Dacia via Diaz 10 San Zeno Brescia. Gruppo Carmeli via Borgo Palazzo 205 Bergamo. Gruppo Carmeli e Guidi Felice.